John Borno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, mi sono trovato costretto a fare questo video alla fine, ma avete costretto a fare questo video ragazzi? Guardando i commenti di ieri sotto al mio video del Parma in serie, ma avete costretto a fare questo video? Ma davvero voi credete che il Parma sia tornato su perché ha rubato? Cioè voi davvero credete in quello che dite? Ho letto certi commenti, tipo il Parma torna su perché squadre come Parma e Palermo attirano di più, Frosinone mi dispiace ma tu in quel... Ma il Frosinone ragazzi ha pareggiato 2-2 per Foggia, si è fatto uccellata a una squadra che ormai non aveva più niente da dire alla serie B Ma di che cosa stiamo parlando? Ma quanti match point ha buttato il Frosinone? Quanti match point ha buttato? Da quanto il Frosinone lo trovasse in serie A? E all'ultima giornata in casa, quando sai che devi solamente che vincere contro il Foggia, contro il Foggia, con tutto il rispetto per il Foggia, già salvo Non può più andare in playoff, il Foggia non ha nulla da dire, cosa fai? Entri in campo, molle Ragazzi ieri il Benevento è entrato in campo, molle, 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 perché molle? Monodide mollo, ma che mollo? No ragazzi, molle davvero Cioè, e davvero mi state parlando del Parma? Il Parma che ha rubato cosa? Il Parma ha rubato, a me non me ne frega il mio sogno esterno Ma il Parma, io vado sempre a questo discorso, che poi si fa Con i rigori pari, con la Juventus in campo, ma perché seguite il calcio se pensate che queste cose esistano? Sto fantomatico ufficio inchiesta dietro il quale vi nascondete ogni volta che pensate che ci sia qualcosa che non vada Qualunque volta, ogni volta che c'è una squadra, che voi non ti fate, che fa qualcosa Per voi è d'ufficio inchiesta, è sempre così Ma vi siete mai detti della vostra squadra che è d'ufficio inchiesta? Vi siete mai detti della vostra squadra ruba? Avete detto, cazzo la mia squadra ruba, l'avete mai detto? Perché ragazzi se davvero siamo in un calcio in cui ci sono squadre che rubano Figuriamo se una ruba all'altra, cioè nel senso se davvero c'è qualcuno che ruba, una ruba all'altra Non c'è nessuno che sta a posto, perché lo sapete com'è il mondo, non ci prendiamo in giro A me mi fanno arrabbiare queste cose, mi fanno arrabbiare perché? Perché magari vedo amici, ma amici nemmeno tanto, vedo persone, tifosi, tifosi del Parma Contenti di aver fatto un miracolo, perché il Parma è passato dalla Serie D alla Serie A E nessuno ce l'ha mai riuscito prima E la gente che lo sa di dire, il Parma ruba Ma davvero facciamo ragazzi? Cosa rubate in questa Serie B? Cosa? Ma davvero facciamo? Si parla di quella partita di due anni fa con il Pordenone, nell'anno scorso con il Pordenone Che fra l'altro durante il campionato al Parma hanno rubato tanti punti Se vogliamo proprio parlare di rubato, ha perso tanti punti per colpa di arbitraggi Tanti altri ne ha avuti, tanti altri ne ha persi Il Pordenone, quella partita, ci furono errori a favore del Parma Errori contro il Parma, ci sono dei video a testimoniarlo Ma la vogliamo smettere ragazzi? Ma se il Parma arriva tra i primi due posti per tre anni di fila Il Parma ha fatto la Serie C e la Serie D Con una squadra che era da Serie B La squadra che andava in Serie D era da Salvezza in Serie B La squadra che andava in Serie C era da Serie B, da metà classifica Quest'anno il Parma ha fatto un gran campionato Perché io non mi vergogno ad ammettere che c'erano squadre molto più attrezzate del Parma Vedi il Palermo, vedi il Frosinone stesso Sono due squadre tra quelle più attrezzate del Parma Il Parma ci ha creduto Il Parma ha già dato meglio al calcio Perché oggi il Parma è arrivato secondo e ha detto io vinco Quello che doveva fare il Frosinone ha detto io vinco Poi se il Frosinone si fa bloccà, vado su Ragazzi stasera, anzi ieri sera abbiamo assistito a un miracolo sportivo Un miracolo sportivo Tutto qua Il Frosinone ha fatto una cazzata Si è fatto fermare dal Foggia È semplicemente una cazzata del Frosinone Se il Frosinone non voleva parlare di arbitraggio Se i tifosi non volevano parlare di arbitraggio Sapete cosa doveva fare il Frosinone? Vincere Ieri il Parma non ha avuto alcun favore E alcun sfavore Ieri il Frosinone non ha avuto alcun favore E alcun sfavore E durante tutto il campione Serie B Io non ho visto favore o sfavore a nessuno Tutto ciò che è andato è tornato E allora non ci prendiamo per il culo A me fa rodere questa cosa Perché poi so che quando succederà su di me Su di me, sul tifoso romanista A me mi roderà il culo Di sentirmi dire che la mia squadra ruba perché? Perché la gente rosica? Qual è? Che cos'è che vi dà il fastidio del Parma? Fatemi capire Il fatto che è tornato su E non pensate che ci abbia dei tifosi? Dei tifosi Perché poi gli arrivano e ho detto Ma non capisco perché tutti questi youtuber Che fanno il video sul Parma Perché ragazzi? Perché siamo tifosi prima che youtuber? Perché so che se la mia Roma dovesse andare in Serie D Piangerai da 4 anni Eppure il Parma Una squadra Mi dispiace dirlo Ma purtroppo più gloriosa della mia Roma Che comunque negli ultimi anni Negli ultimi 20 anni È sempre arrivata più in alto del Parma Perché la Roma si è stabilizzata in alto Il Parma è sceso Al di là della Serie C D Il Parma è sceso anche in Serie A E si è messa a lottare per l'Europa O per la salvezza Però è più gloriosa della Roma Loro hanno vissuto tutto Hanno vissuto coppe UEFA Hanno vissuto scudetti sfiorati E coppe Italia Hanno fatto la voce grossi in Europa Poi che cosa è successo? Per colpo di una persona Che non c'entrava niente Con la tifoseria E non c'entrava niente con i giocatori Si sono ritrovati in Serie B In Serie B In Serie D In Serie D Dal giorno alla notte Tu, tifoso che me stai guardando Che tu sia del Bologna Del Cagliari Dell'Udinese Della Roma Della Lazio Della Juventus Del Napoli Domani la tua squadra Che tu sia in Serie A Fallisce Si trova in Serie D Ma sai che vuol dire Quando ritorni in A? Ma sai la gioia E perché dovete smontarla Per delle cazzate Che state costruendo voi A me tutto questo Mi fa schifo Mi fa schifo Dovore dovore In Serie B